Qui ragazzi non si sa se ridere o se piangere a leggere queste notizie. Rubulo inarrestabile, ai massimi dal 2015 sul dollaro, nonostante tutte le sanzioni che il mondo occidentale ha fatto e sta facendo al signor Putin e alla Russia, che avrebbero dovuto far crollare l'economia di quel grande paese. La realtà è un'altra, queste sanzioni stanno facendo male solo a noi occidentali, in special modo a noi italiani, siamo in ginocchio tartassati, vessati da un governo di incapaci che sta portando l'Italia e il proprio popolo alla rovina, questa è la realtà. Pensate che il rubulo nel 2022 è risultata la migliore valuta al mondo, con un rialzo superiore al 35%. Allora io vi domando, e mi domando naturalmente, ma ci prendono per il culo o ci prendono per il culo? Ecco, io penso che ci prendono per il culo. Questa è la verità, ci prendono per il culo e nel frattempo ci stanno portando via quei quattro soldi che qualcuno magari è riuscito a mettere da parte. Ancora un po' che andiamo avanti con queste sanzioni e ci porteranno via anche le mutande spocche di merda, questi maledeti.